Il factoring è uno strumento efficace che può essere di supporto alle aziende per partecipare agli appalti verso la pubblica amministrazione e nello specifico gli appalti che sono previsti dal PNRR. La possibilità di avere delle linee di credito dedicate anche per singola commessa o per singolo contratto mette le aziende nella condizione di poter pianificare e di poter strutturare l'attività sia a livello operativo sia a livello finanziario. Il factoring fondamentalmente ha tre vantaggi. Il primo vantaggio è quello di offrire la gestione del credito che viene ceduto alla banca. Il secondo vantaggio è quello di ottenere della liquidità derivante dai crediti che sorgono da contratti o da commesse nei confronti degli enti pubblici o degli appalti del PNRR. La terza è la possibilità di avere anche la garanzia sul buon fine dei crediti rilasciata dalla banca che permette di poter deconsolidare i crediti da bilancio e di conseguenza migliorare anche la posizione finanziaria netta delle aziende che utilizzano questo strumento.